Siamo a metà della salita e le pendenze più difficili devono ancora arrivare perché è chiaro, sarà così non solamente per noi ma sarà così per tutte le squadre perché nel giorno di torno gli obiettivi si avvicinano e quindi tutte le squadre saranno molto motivate. E' per questo che noi non possiamo accontentarci delle nostre prestazioni ma dobbiamo provare ad alzare il nostro livello tecnico, tattico, organizzativo perché le partite importanti arrivano e ce n'abbiamo una molto importante domani. Dobbiamo provare a mettere in campo più qualità e più intensità dei nostri avversari per avere più possibilità di vincere. Lo stimolo arriva da noi stessi nel senso che noi giochiamo domani in una partita in casa, abbiamo cominciato bene vincendo una partita difficile a Bologna e vogliamo proseguire la nostra corsa e poi la classifica sarà completa solamente domani sera dopo l'ultima partita delle 20.45. Quindi adesso è una classifica parziale che non ci interessa ma ci interessa mettere in campo la prestazione la migliore possibile e provare a vincere questa partita e poi vedere domani sera la classifica come sarà. Poi è chiaro che sino a ieri eravamo primi in classifica e che vorremmo e che sarebbe importante esserlo anche domani sera, questo sicuramente. Onestamente io ho visto Nibra molto determinato, ho visto Nibra molto dentro la nostra manovra a Bologna e determinante nel nostro sviluppo offensivo. A me è piaciuto tutto quello che ha fatto in campo Zata domenica scorsa, come mi è piaciuto tutta la nostra fase offensiva. Abbiamo creato 10 occasioni da gol, creare 10 occasioni da gol nel campione italiano è difficilissimo, vuol dire che tutta la squadra e anche e soprattutto gli attaccanti sono stati molto incisivi. Poi che questa settimana, tra virgolette pulita da impegni, abbia permesso a tutti di migliorare la propria condizione, di ritrovare ancora più ritmo, sì, e sarà stato così anche per Zata, ma io sono uscito molto soddisfatto della sua prestazione. Ciala qualche sintomo l'ho avuto, quindi è chiaro che questa situazione ti porta via a livello di condizione, valuterò bene. È bene riaverlo con noi, è un giocatore molto importante, con delle caratteristiche uniche, credo, in questa squadra. Poi dopo deciderò se schiarlo dall'inizio o se la partita è cominciata. Il Cortone è una squadra che gioca bene, gioca un buon calcio, che palleggia bene. Non so che tipo di attaccanti troveremo, perché adesso Stroop ha a disposizione varie possibilità, quindi potremo trovare attaccanti fisici piuttosto che attaccanti veloci. Però dovremmo essere molto compatti, molto bravi in avere i tempi giusti di pressione, i tempi giusti di giocate. Ripeto, cercare di fare una partita dal punto di vista tecnico la migliore possibile, perché il Cortone è una squadra che sa anche difendersi bene, che sa coprire gli spazi, quindi servirà anche molta pulizia nel gesto e molta precisione.